Il mare è il quattro, questi sono all'Accademia, tanto ai Bagnacchetti, a riprendere il mare che si infragna lungo gli scogli, guardate qualche spettacolo, c'è una nave sullo sfondo, questi sono gli scogli dell'Accademia, guardate il mare, le onde che superano l'atichetta, la monta si prepara l'arco, si sta preparando, monta piano piano, l'acqua di Giotto Forte, come trova lo scoglio sui frange, perché è la velocità del rumore del vento. Quello scoglio lì, dove ora si muove sui frange, è lo scoglio dove diversi anni fa si trovò in due una nave che portava i riconimenti e i riveri agli americani di Campodermia, una nave inglese, e c'era tutti i tacchini, i bolli congelati, tutti in terraferma. È un calcio in acqua di Lomb 180, ma è arrivata una慢慢mente a terra, e passi a consequences a terra for screen. Anche questo è gli animali in doppia piano, finita laеру con vita, non so questo Brad Matoachetta, andate lì...